Allora, buongiorno a tutti e tutte, sono contento che siate qua oggi pomeriggio a chiacchierare con noi e con David Fanchinoz su numero due, che è un oggetto narrativo strano, perché è un romanzo, quindi, anzi poi glielo chiederemo adesso, la prima domanda che gli facciamo è esattamente questa, quindi è un romanzo, dovrebbe essere un romanzo, però la storia che racconta è strettamente connessa a una serie di fatti realmente accaduti, nel senso che all'inizio del millennio 2000-2001, voi lo sapete, Harry Potter, la saga di J.K. Rowling è arrivata nei cinema, ed è arrivata nei cinema con il volto di Daniel Radcliffe come Harry Potter. Il fatto è che, come noi sappiamo, perché le cronache ce lo hanno raccontato, i ragazzini a cui è stata fatta un'audizione per il ruolo di Harry Potter sono stati diversi, poi è stato scelto Daniel Radcliffe. E qui si innesta la fantasia di David Fanchinoz sulla questione, e se ci fosse stato un ragazzino che magari si chiamava Martin Hill e che magari è arrivato a un certo punto proprio, no, come dire, a essere quello che poteva diventare Harry Potter al posto di Daniel Radcliffe e poi non lo è diventato, da qui parte il racconto. Però appunto io inizierei col chiedere a David Fanchinoz come ha trattato la verità e la finzione, come le ha amalgamate. Grazie. D'abord sono molto contento di essere qui, perché ho scoperto questa magnifica ville e poi il club dei lettori qui, questo mi piace molto essere un'escrizione italiana. Grazie per essere qui, sono molto felice di essere stato invitato, questo mi ha dato l'opportunità di visitare questa bella città e anche di essere qui al circolo dei lettori, che è una cosa che fa venire voglia di fare lo scrittore in Italia. Guarda Fabio, era molto felice. Fortunato Fabio. Allora, perdone, sono un po' malato perché in realtà mia moglie che è italiana mi ha detto che c'era veramente la ville della nourritura qui. Beh, mia moglie tra l'altro che è italiana mi ha proprio detto che questa è la città del cibo. E abbiamo veramente molto mangiato. E abbiamo mangiato tantissimo, quindi insomma non sono proprio informissima. Ho fatto l'errore di arrivare venerdì qui per il festival. Ho fatto l'errore di arrivare venerdì già per questo festival. Devo dirvi che normalmente io sono uno molto intelligente, molto brillante, anche molto spirituale, di humor. Voilà, non mi volevo se non sono a un livello di oggi. E quindi non ve la prendete se invece oggi non sarò proprio a livello. Quindi la prima domanda... Non, tutto va bene. No, va bene, va bene. Allora, la prima domanda effettivamente è legittima perché quando lì questo libro la prima domanda che mi viene fatta è che cosa c'è di vero, che cosa c'è di non vero. Il punto di partenza è totalmente reale. Io sono tombato un giorno sull'interview della direttrice del casting di Harry Potter che raccontava che all'epoca hanno audizionato centenze di jeunes attori e che alla fine ne sono restano più che due. Il punto di partenza è assolutamente reale. Mi è capitato di incappare nell'intervista che è stata fatta alla direttrice del casting per Harry Potter che raccontava proprio che hanno fatto le audizioni a centinaia di ragazzini e alla fine ne sono rimasti soltanto due. Io non ero un specialista di Harry Potter, ma è vero che ho immaginato pensato all'altro piccolo ragazzo, perché nell'interview lei ha detto che loro hanno esistato durante molte settimane. Quindi ho detto che c'è un piccolo ragazzo che ha dovuto croire che fosse una star internazionale di cinema e poi alla fine ho detto che non sarebbe tu. Io non sono, devo ammettere, uno specialista di Harry Potter, però la cosa che mi è venuta subito in mente è stato questo altro ragazzino, perché appunto mi ha raccontato che c'è stata un'indecisione per molte settimane e loro ho pensato, ma questo ragazzino che ha pensato a un certo punto di diventare una star del cinema, invece alla fine non se n'è fatto niente. Al principio del libro racconto tutta l'istoria di J.K. Rowling, che è incredibilmente romanesca, potete che non parleremo dopo, e la genezza del film e del casting, tutto questo è vero. Dopo si spiega veramente nel romano, cioè che il mio personaggio non è realmente il numero due. All'inizio c'è anche tutto un excurso sulla vita di J.K. Rowling, anche questa è una parte reale, anche tutta la parte che riguarda il casting, questo è vero, ma poi invece si entra nella parte più del romanzo, tra l'altro vita di J.K. Rowling che è anche essa molto romanzesca, magari poi avremo occasione di parlare, quindi da lì in poi dopo il casting è finzione. E poi ci sono anche nel libro diverse altre vite che Frankie Neuse racconta per provare a ragionare su un tema che ovviamente, mi permetto questa piccola digressione, è come dire, collima sfiora quello di Torino spiritualità di quest'anno, cioè l'imperfezione, l'errore, l'inciampo, ok? Quello che lui racconta, quello di Martin Hill, il ragazzino che avrebbe potuto essere Harry Potter e quindi diventare famoso, come poi diventato famosissimo Daniel Radcliffe e tutto l'altro, come dire, il resto del gruppo. Ecco, quella di Martin Hill è un'occasione persa. La mia domanda e la mia, come dire, riflessione ora è questa, ma quanto è grande un'occasione persa? Cioè, è possibile misurare oggettivamente la grandezza di un fallimento? Cioè, esiste un modo per dire, oddio, il tuo fallimento è stato clamoroso, oppure il tuo è stato un inciampo? Oppure è una questione intima, personale, cioè dipende da come noi abbiamo valutato quello che stavamo facendo, ok? E la stessa cosa vale anche per il successo, se ci pensate. Cioè, è possibile misurare oggettivamente un successo? Oppure, perché è ovvio, che dipende da dove parti, no? Cioè, se parti da due e raggiungi sei, hai fatto quattro, no? C'è stato, come dire, una crescita di quattro. Se parti da otto e arrivi a dieci, dieci più di sei, ma sei cresciuto solo di due, ok? Quindi, volevo ragionare intorno a questo fatto, cioè, se il fallimento, in questo caso, di Martin Hill è davvero oggettivamente un enorme fallimento, un enorme occasione persa, oppure se è lui che la vede così per qualche motivo. Come dicevo, sono un po' stanco, forse bisognerebbe farmi delle domande un po' meno intelligenti. Tu t'adapti un po'? Adattati un po'. Dopo passerò al menù del pranzo, però, allora. Parliamo di cucina. In tutto caso, il y a due cose. La prima cosa, c'è che ce che mi passionnava anche in tant che romanciera, c'è che non solo questo jeune garanzo vivendo un èchec, e l'on vit tutti des èchecs, ma il aveva in permanenza la vision di la vita qu'il aurait pu avere. E questo, immaginate una sola seconda che voi ratez qualcosa e che voi aveva in permanenza il film di di quello che avrebbe potuto vivere, se non l'avete raffreddato. Beh, devo dire due cose. La prima è che questo libro non parla soltanto di un fallimento, ma volevo anche, come scrittore, raccontare l'esperienza di trovarsi sempre di fronte a quello che sarebbe potuto essere. Cioè questo ragazzino non soltanto perde questa opportunità, ma viene costantemente confrontato di fronte a una sorta di film di quello che avrebbe potuto essere e che invece non è accaduto. C'è un esempio che mi fascinava e che evoque nel libro. C'è quello di Pete Best, che è il battente dei Beatles. Ci sono delle storie di questo genere che mi affascinano. Una la cito anche nel libro, che è la storia di Pete Best, il primo batterista dei Beatles. Non soltanto è scartato proprio prima della gloria, ma tutta la sua vita, va a vedere la vita qu'il aurait pu avere. E questo può rendere completamente freddo. D'ailleurs, è allato fino ad una tentativa di suicidio. Pete Best è stato, diciamo, uscito dalla band poco prima che i Beatles raggiungessero il successo e la fama planetaria, ma non soltanto questo. poi lui per tutta la vita ha dovuto assistere all'enorme successo dei Beatles e ha dovuto confrontarsi con l'idea avrei potuto essere io. Questo può far diventare folli e in effetti lui ha poi anche tentato il suicidio nella sua vita. Si può accettare l'esercizio, ma si può accettare il buonore dei altri o la gloria dei altri. Si può accettare la sconfitta, ma a volte è anche difficile accettare la fortuna, la felicità e il successo degli altri. Là dove tu hai ragione, è che tutto questo è un punto di comparazione. L'esercizio per rapporto a chi, il successo per rapporto a chi. Questo è molto giusto. È molto giusto quello che dici, cioè che c'è sempre un raffronto, cioè è una sconfitta rispetto a, è un successo rispetto a chi o cosa. E in questo senso il libro è una parabola del mondo contemporaneo, traversata dai sociali e quindi l'accès alla vita degli altri. E questo libro in questo senso è anche una parabola del mondo moderno, dove siamo costantemente esposti ai social media e abbiamo costantemente accesso alla felicità degli altri. E' la prima volta che quindi giudichiamo la nostra felicità rispetto a quella degli altri. E' quello che mi interessava in questo tema, è di dire che non c'è una verità all'esercizio? E' se che finalmente non possiamo apprendere l'esercizio? E' se il successo non è complesso o difficile da vivere? E l'idea è che ogni situazione, al principio, che vi sembra evidente, c'è un successo e un esercizio, progressivamente tutto ciò diventa più complesso. Mi interessava, nell'affrontare questo argomento, anche provare a vedere se magari non c'è una virtù nella sconfitta, se non è un'esperienza che ci può insegnare qualcosa, e viceversa se il successo invece non può essere qualcosa di complesso, di difficile da vivere. All'inizio, quindi, c'è una situazione che sembra essere molto netta e chiara. C'è un successo, c'è una sconfitta. Ma invece poi, man mano e gradualmente, le cose si fanno più complesse. Sì, ma all'inizio c'è ancora un altro fatto che a me colpisce molto e su cui magari uno potrebbe ragionare. Nel senso che, vi faccio questo esempio, a me capita spesso che giovani scrittori, giovani scrittrici, persone che magari hanno mandato un manoscritto ad una casa editrice e stanno aspettando una risposta, oppure persone che hanno appena pubblicato il loro primo romanzo, mi dicano, ma adesso mi chiedono, ma secondo te adesso che cosa devo fare? E quello che io dico è, torna a casa e comincia subito a scrivere qualcos'altro. Cioè, non stare lì a misurare il successo di quello che hai fatto, no? Cioè, non hai, come dire, se hai mandato un manoscritto ad una casa editrice, non stare lì seduto ad aspettare che ti rispondano. Inizia a scrivere un'altra cosa perché io do per scontato che tu scriva perché ti piace scrivere, ok? Non soltanto perché vuoi pubblicare e vuoi avere successo. E se tu hai pubblicato un libro, magari va bene, magari va male. Se pubblicherai per tutta la vita, avrai libri che andranno molto bene, io te lo auguro, e dei libri che magari andranno molto male. Intanto la tua vita non sta nel misurare il successo di quello che hai fatto, non solo in quello. Sta soprattutto nel tempo meraviglioso che passi a scrivere. Martin Hill quello che fa dopo essere stato scartato da Harry Potter è smettere di fare provini, smettere di provare a recitare, ok? E quindi qui si innesta un'altra riflessione, cioè quanto lui in realtà voleva recitare e quanto voleva semplicemente avrebbe desiderato il tipo di successo che poi ha avuto Daniel Radcliffe, ok? Anche Pete Best. A me sembra che Pete Best abbia smesso di fare il batterista dopo che è stato escluso dai Beatles. Allora io mi chiedo, ok, però allora quanto volevi fare il batterista e quanto semplicemente volevi avere quel tipo di successo e di esposizione? Perché sono due cose diverse. Will è diventato boulanger. Ha iniziato a fare il panettiere, Pete Best. È vero, ha smesso? D'ailleurs, in Francia, per il paese si chiamavano baguette. Come le baguette di batteria. Si è messo a fare le baguette invece delle bacchette della batteria. Ma io penso che ci sono dei escecchi che possono essere che non puoi surmontare. È impossibile di surmontare alcuni escecchi. Però ci sono delle sconfitte che secondo me è impossibile superare. Per me, ce che mi interessava era che avevo una grande tendenza per tutti i personaggi, per tutti i numero due. La cosa che mi interessava, ecco, diciamo che nasce proprio dalla tenerezza, che io ho sempre provato per chi arriva secondo. E quando il libro è sortito in Francia, c'era abbastanza drôle, perché tutto il mondo mi raccontava le storie dei loro escecchi, tutto ciò che avevano ratato nella vita. E, finalmente, è un libro che, io, avevo voglia di essere portati da questa dimensione abbastanza drôle di raccontare ciò che avevano ratato. È stato interessante che quando poi il libro è uscito in Francia, nelle presentazioni tanti sono venuti a raccontarmi le sconfitte della loro vita, ciò che non sono riusciti a fare, che si sono persi nella vita. Ed era questa dimensione che volevo raccontare. E il libro, in effetti, è pieno di storie di numeri due. Ad esempio, a un certo punto Martin Hill va a lavorare come guardiano del Louvre e si innamora del quadro che è esposto di fianco alla Gioconda, a quello che nessuno guarda. Quindi, la prossima volta che vai al Louvre, non potete vedere Mona, ma invece il tavolo a vicino. E allora vi invito, la prossima volta che andate all'Ouvro, di non guardare la Mona Lisa, ma di guardare il quadro che c'è di fianco. Nella tua domanda, c'è anche la questione del destino e del hasard. Nella tua domanda è implicita però anche il concetto di caso e di destino. E in realtà credo che in parte non abbia neanche voluto passare questo casting. E molto spesso, credo che diciamo così in Italia, ma c'è un dictono che dice che il hasard fa bene le cose. Non so se esiste lo stesso modo di dire in italiano, però in francese spesso diciamo che il caso fa bene le cose, cioè ci azzecca. E per me questo libro è che il hasard fa male le cose. Invece in questo caso secondo me è proprio il contrario. Cioè in questo caso il caso ha fatto male le cose. Cioè quello che volevo dire prima in realtà che non era un desiderio. C'è finito per caso a fare questo provino di Harry Potter. Non era un... Senti, ma allora a questo punto mi viene spontanea la domanda, visto che tu dicevi che alle presentazioni la gente veniva a raccontarti i suoi errori, i suoi no, le sue occasioni mancate. Volevo chiedere se anche lui ha un'occasione mancata da raccontarci. Ah sì, ma bien sûr. Oh là là, moi je suis le fruit de beaucoup d'échecs. Ma io sono il frutto di tante sconfitte. C'è d'ailleurs totalement improbabile che je soa maintenant dans la réussite. Ed è assolutamente improbabile il fatto che io adesso sia... abbia raggiunto un qualcosa di riuscito. Ma c'è peut-être parce que j'ai connu tous ces échecs che j'ai pu aussi m'approcher de certaines choses. Però forse è proprio perché ho conosciuto tutte queste sconfitte che sono riuscito poi ad avvicinarmi a certe cose. Par exemple, j'ai racconté très souvent une rencontre en librerie en France où je suis arrivé et contrairement à aujourd'hui, merci, il n'y avait qu'une seule personne présente. Donc bon, en termes de succès on n'est pas au top. E cette femme m'a dit «Je ne sais pas du tout qui vous êtes, monsieur Fuenquinos, mais j'ai oublié mes clés et donc j'attends que mon mari rentre à la maison». Donc j'ai connu ça mais ça me faisait beaucoup rire parce que moi tout mal est. Après, subitement, j'ai eu vraiment beaucoup de succès avec le livre «La Delicatesse». Et peu après, pochissimo après, est-ce arrivé le succès avec le livre «La Delicatesse» et «La Delicatezza». Dans le monde entier? Dans tout le monde. Sauf en Italie. Très qu'en Italie. Donc tu me demandes mes échecs. Bah, je suis dans le royaume de mes échecs ici. Tu me fais une demande sur les échecs, et je suis dans le royaume des échecs. Mais je continue à me battre. Mais continue à battre. Mes livres marchent dans le monde entier, sauf ici. Et mes livres camminent, vant bien dans tout le monde, tranne que ici. Et je ne comprends pas. Et non capis pas pourquoi. Je suis très sympa. Je suis simpatique. Mes livres sont quand même exceptionnels. Mes livres sont exceptionnels. A chaque fois je change d'éditeur. Parce que je me fais larguer. Je me fais quitter. Parce que je me fais quitter. Parce que je me fais quitter. Parce que je me fais quitter. Donc maintenant je pense que on va tout redémarrer à zéro. A partir d'ici de Turin. Vous avez une mission. Et la votre mission. Voilà. Ah, vous avez les T3. Attention. Ah, c'est toi. Ah, j'ai trouvé ma lettrice en Italie. Et tu es encore là ? Et tu es encore là ? Et tu es encore là ? Ça fait plaisir. Mi fait plaisir. Offre lui un petit cappuccino. Ti offre un cappuccino dopo. No, ascolta. Allora, io volevo invece ritornare a questo punto su una questione che David ha, come dire, buttato sul piatto prima, che è quella dell'essere esposti alla felicità degli altri. Allora, nel libro che a questo punto dovete leggere, cioè acquistare e leggere per, come dire, contribuire all'autostima di David, nel libro si racconta molto bene come il problema sia che oltre ad essere stato scartato per un film, quel film diventa una stessa. una saga, ne fanno otto, quindi per tipo quindici anni, no, ogni due anni, lui rivive questo incubo del nuovo capitolo cinematografico di Harry Potter che esce, Daniel Radcliffe dappertutto. Ok, quindi c'è questo continuo essere messo di fronte al proprio fallimento. E effettivamente io mi chiedevo se ai tempi di Pete Best fosse esistito TikTok oppure Instagram. E quindi la domanda che mi viene da fare è effettivamente quanto oggi l'esposizione che abbiamo alle vite ipoteticamente meravigliose degli altri ci influenza. Dico ipoteticamente perché penso che lo sappiate, la vita di Daniel Radcliffe è stata tutt'altro che facile, semplice. Adesso credo, sono andato prima di venire qua, devo dire, lo metto a googolare Daniel Radcliffe per vedere come stava. Perché l'avevo un po' perso dal mio radar, non sapevo più bene cosa stesse facendo. Ed effettivamente ho scoperto che lui ha avuto problemi di alcolismo mentre stava ancora facendo Harry Potter. Ok, gli ultimi due film di Harry Potter lui li ha fatti da alcolista. Ok, e poi dopo ha avuto tantissima difficoltà a ritrovarsi, a capire chi era come autore. Insomma, tutto questo per dire che appunto le vite degli altri spesso ci sembrano più felici di quelle che in realtà sono. Però i social network ci sbattono in faccia quasi sempre solo la parte migliore delle nostre vite. Sì, io vi posto su Instagram una foto di mia incontra qui a Turin e tutti pensano che ho una vita straordinaria e che sono una star a Turin. Eh beh, io ho fatto la stessa cosa, ho postato una foto su Instagram di questo bell'incontro a Turin e tutti pensano che io faccia la vita da star in giro per il mondo. On può fare dire ce qu'on vuole alle immagini. Alle immagini possiamo fare dire quello che vogliamo. Ma là, ce quelli che tu hai detto, perché è uno dei suoi 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 vicini che ho evoqué imparato a cui ho supposto che il problema è che, dall'assezione del libro, perché non è solo un libro su Harry Potter. Ci sono le lezioni a prendere, gli escecchi, e le grandi difficoltà al successo. Sì, però come accennavo prima, questo è proprio uno dei grandi temi del libro, cioè che, al di là di Harry Potter, perché poi nel libro si parla anche di tanto altro, non soltanto di Harry Potter, ci sono delle cose da imparare, dalle sconfitte, così come allo stesso tempo ci sono delle grandi difficoltà nel successo. Tutto il mondo si dice che è straordinario, ha una vita geniale, ha una star mondiale, ha un'argento, tutto il mondo lo conosce. E poi, petit a petit, si rende compte che ça può essere un'enfance molto compliquata, che nel mondo entro nessuno ne connaisse il nome e tutto il mondo l'appelle Harry, che quando sei attore e anche di sortire da questo ruolo è difficile. J'adore l'idea che c'è delle complessità in tutte le situazioni. È vero quindi che all'inizio si può pensare ma che vita straordinaria, è una star del cinema conosciuta in tutto il mondo, si guadagna un sacco di soldi, lo conoscono tutti, però poi poco a poco ci si rende conto che una persona come Daniel Radcliffe in realtà ha vissuto un'infianza molto complicata, che nessuno lo conosceva col suo nome vero ma lo chiamavano tutti Harry, che in realtà anche per un attore è molto difficile uscire da un ruolo che hai avuto per così tanto tempo. Quindi mi interessava vedere la complessità in entrambe le situazioni. Moi c'è un tema che mi parla anche senza comparazione ma ho potuto vedere la complessità del successo, la violenza, l'aggressività. Senza voler fare confronti, però ho visto a volte come il successo è anche legato all'aggressività, alla violenza. Ci può essere anche questo nel successo. dopo la maggior parte dei bambini dei bambini stari devono fii o che hanno una vita molto difficili che sia Michael Jackson, che sia Drew Barrymore che è diventato un alcoolico anche molto molto Macaulay Culkin. Ce che è formato è che la produzione ha comunque successo in la stessa tutti insieme, in guardando una vita scola. Ci sono comunque molto 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 proteggati e globalmente sono tutti bene. E' anche interessante vedere come questo succede tanto ai bambini che diventano bambini prodigio o star molto piccoli, cioè poi hanno delle grandi difficoltà o perdono un po' la salute mentale o hanno poi vari problemi, insomma vite molto difficili. Questo successo pensiamo all'esempio di Michael Jackson o di Macaulay Culkin è successo a molti di loro. Quello che avviene è anche che poi riescono comunque ad avere anche delle vite in parte anche protette per quanto riguarda anche il percorso scolastico e quindi in qualche modo poi ne escono bene però certamente c'è una grande difficoltà nelle vite di tanti di questi bambini che hanno conosciuto il successo da piccoli. Di questo infatti ne parla David Finchinoz nel libro. Ve ne leggo un passaggio. Guarda, adesso non so però come tu farai a ritrovare pagina 91 della mia edizione quando aspetta il capitoletto 29 però di cosa? Ci saranno dei capitoli più aspetta sì 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 quindi il 29 dovresti averlo ok allora aspetta così ora me lo sono perso io ovviamente ma ce l'ho ce l'ho ce l'ho choisi bien perché c'è delle pagine che sono pas très bonne c'è di bene perché certe pagine non sono scritte tanto bene allora c'è questa scena in cui c'è esattamente il momento in cui il produttore dice a Martin Hill e a suo padre che niente che il ruolo non è andato a lui e quello che lui gli dice è questo allora Martin non sentiva più le parole del produttore aveva la testa calda e ovattata e l'impressione di cadere pur restando seduto naturalmente era preparato a un simile smacco ma l'impatto con la realtà era troppo violento non si sentiva più in grado di incassare un colpo del genere la capacità di sopportare i traumi si acquisisce con gli anni a poco a poco la vita umana forse si riduce a questo a un incessante sperimentare la disillusione per approdare con più o meno successo alla gestione della sofferenza ma al momento Martin aveva appena undici anni era una cosa insanabile la promessa di un'avventura meravigliosa gli era appena stata sottratta allora parliamo di questo parliamo dell'età di Martin cioè il fatto che l'occasione persa e il fallimento arrivino alla sua età e quindi ovviamente è peggio prima domanda quindi fallire ad adulti è meglio è più facile chi avrebbe dovuto difenderlo ma io ne so non lo so in tutto caso per questo personaggio vivere un tel ècheco infatti è molto difficile sicuramente per questo personaggio vivere lo smacco la sconfitta così piccola così giovane è molto difficile e ha l'impression di aver ratato la vita perché pensa di essersi perso la vita un infatti che dice è terribile ed è terribile un bambino che pensa di aver sprecato aver perso l'occasione di tutta la sua vita e c'è una scena nel libro dove sa madre l'emmène con il psico perché il malattro di suo figlio e anche sua madre sente il malessere del figlio e il psico lui dice è che tu hai lu Harry Potter perché l'autore J.K. Rowling diceva tutto il tempo che aveva ratato la sua vita e guarda cosa è divenuta e poiché la mamma sente il malessere del figlio lo porta dallo psicologo cosa fa lo psicologo durante la seduta gli chiede ma tu hai letto conosci Harry Potter perché anche J.K. Rowling ha avuto una vita difficile un'infanzia molto difficile guarda adesso fin dove è arrivata il problema è che quando vogliamo rimontare il morale lui parla voleva sollevare il morale cosa fa lo psicologo gli tira fuori di nuovo Harry Potter è difficile di fare una generalità è difficile quindi ce che mi piace è che il libro va diventare un film e il libro è una pièce che va giocare a Londra in janvier e il libro è venuto in Angleterra e mi piace che il numero 2 sia al corso del libro del film e che può giocare nel film può essere che questo libro diventi sia adattato in film per ora ci sarà comunque una pièce teatrale che uscirà al teatro a Londra a gennaio e mi piacerebbe in questo modo che il vero numero 2 della storia di Harry Potter e del casting venga così a conoscenza di questo libro non mi dispiacerebbe che fosse lui a interpretare la propria parte ascolta senti ma invece vorrei che tu ci parlassi di John e Jeanne che sono i due genitori perché per adesso abbiamo parlato soltanto di Martin Hill ma Martin non è arrivato a fare il provino di Harry Potter così per caso ovviamente e io credo che i due genitori è un po' a questo facevo riferimento diciamo con la seconda parte della domanda di prima che insomma i due genitori abbiano una responsabilità in quello che è successo quindi chiederei a te di parlarci di John e Jeanne che vuole essere attrice ebbene che vorrebbe fare l'attrice ed è pieno di genitori di papà e di mamme che accompagnano i bambini però poi in realtà non hanno voce in capitolo non hanno responsabilità sul fatto che poi vengano scelti oppure no sì che vengano scelti oppure no sono d'accordo che non hanno responsabilità su come come dire puntellare l'autostima dei figli e la loro e la differenza tra sogno e illusione no che a me interessa cioè una cosa che io mi trovo spesso a dire quando mi capita di parlare con adolescenti che hanno dei sogni nella vita e cercate sempre di distinguere il sogno dall'illusione cercate sempre di mantenere un piede nel sogno e un piede nella realtà perché inseguire un sogno è una cosa bella sana illudersi che poi quel sogno si trasformi in realtà o che quel sogno raggiunga la sua massima realizzazione questo ovviamente nessuno può dirlo ora John è anche lui uno che si interroga su sui fallimenti cioè il padre il padre di Martin Hill è uno che ha provato a fare musica ha provato a fare l'inventore ha inventato una cravatta una cravatta ombrello che non ho capito come funziona quindi poi ci spiega come funziona la cravatta ombrello perché non ce l'ho chiarissimo ma qua non ce n'è bisogno non piove tanto a Torino piove un sacco adesso non più non c'è un sole che voi siete capabili di venire assistere a una rincontra lettera un dimanche l'arca di sole in Francia se c'era il sole non c'era nessuno cioè anche con un sole così e questo mi fa pensare che siate un po' viziati che abbiate tanto sole perché una giornata di sole così eppure la gente ha trovato il tempo di venire al circolo dei lettori se ci fosse un sole così a Parigi qua non ci sarebbe nessuno tutti fuori comunque allora il discorso è quanto John e Jeanne con la sua assenza perché la mamma vive a Parigi lontana insomma quanto hanno un po' mancato secondo me di puntellare tutto questo percorso sì io penso che tu mi hai detto che sei un educatore quindi sono delle domande che sono importanti per te come accompagnare i bambini nelle difficoltà in quanto possono attraversare e c'è tutta una parte del libro tu hai veramente raison parla veramente della difficoltà di questo adolescente anche se è piuttosto una comedia io racconto veramente con molto serio la difficoltà di un figlio che è confrontato a una forma di tragedia siccome prima mi hai detto che tu hai fatto anche l'educatore prima di diventare scrittore capisco che per te sia importante parlare un po' di questo aspetto e di come si possano accompagnare degli adolescenti che vivono delle difficoltà in effetti c'è tutta una parte del libro che parla di come questo adolescente questo ragazzo debba affrontare quella che per lui è una tragedia e a un momento nel libro ho chiesto che se il ragazzo non è stato chiesto per diventare Harry Potter lo diventare nella vita c'era un lavoro un gioco sulla ficzione e la realtà e il fatto che progressivamente il derabe in un universo nella vita che è molto vicino di Harry Potter perché si diventa maltratato e quello che succede nel libro quello che avevo pensato è bene se questo ragazzino non viene scelto per interpretare Harry Potter si troverà a vivere una vita che da molti punti di vista assomiglierà alla vita di Harry Potter e quindi è stato un po' un gioco di intreccio tra la finzione e la realtà e quindi gli succedono nella vita tutta una serie di cose analoghe ad esempio viene maltrattato da parenti c'è un po' in psicanalisi faccio un po' di psicanalisi allora si guardo anch'io l'ora per vedere a che punto siamo a un certo punto esattamente pagina 192 adesso ve la raggiungo no ma guarda è una frase puoi anche tradurla semplicemente perché il narratore e quindi diciamo Martin che è un po' nella testa del narratore come dire si Martin a cui il narratore dà un po' voce si chiede e se la soluzione fosse l'amore no? che ovviamente poi tu parlavi di Pete Best no? o gli Unidis Love però quello era degli altri insomma di quelli che non di Pete Best c'è John Lennon che dice a propos di Yoko Ono si si era John Lennon che lo diceva più non lui senti è davvero la soluzione è l'amore quindi? sì 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 perché non abbiamo visto a quel punto ho stato romantico oggi ancora ancora oggi sì c'è questo progetto romantico si credere la soluzione io credo veramente che o dà di l'amore e c'è vero che in il libro c'è questo qualcuno che guarda con amore con consolazione con una forma di non farvi giudere effettivamente c'è un apesimento questo libro è la ricerca d'un jeune garanzo che fa tutto per effacere l'amore l'amore va tutto raccontare la fine ma il va riuscire ma io credo che l'amore è la clé di tutte le cose sì io penso di sì è vero che diciamo questa parte del ruolo dell'amore nel libro c'è un aspetto molto importante è l'importanza di uno sguardo cioè qualcuno che ti guardi con amore con affetto senza giudicarti e questa sensazione di qualcuno che ti guarda in questo modo fa stare bene riappacifica e infatti questo libro è proprio la ricerca di un giovane ragazzo di questo poi non voglio raccontare se alla fine ce la farà o meno però prova di tutto per arrivare a questo quindi io sì credo che l'amore sia davvero la chiave io credo che questo personaggio soffre del ruolo dei altri il soffre dell'idea che puoi la vedere come una vita di escec e quando diventa molto amore il ruolo dei altri prende molto meno d'importanza e non c'è più un ruolo che conta il personaggio nel libro soffre molto lo sguardo degli altri e soffre molto dell'idea che gli altri possono guardarlo e pensare che la sua vita è soltanto un fallimento che la sua è una vita fallita invece quando si è innamorati poco importa dello sguardo degli altri quando si è innamorati è lo sguardo di una sola persona quello che ci interessa senti allora David tu hai scritto molti libri e alle volte si dice che gli autori tendano a scrivere lo stesso libro per tutta la vita perché magari hanno una storia una domanda un dolore da elaborare e poi danno molte forme molte allora la domanda che vorrei farti anche per invitare poi chi legge a scoprire gli altri libri di David Fanchinoz pubblicati in Italia e qual è il filo rosso se tu lo vedi che cuce un po' tutti quanti i tuoi libri allora ho scritto dei libri molto diversi gli altri molto diversi nei univers nel ton magari molto dolorosi magari molto léger ma se c'è un filo rouge sarebbe quello della renaissance o della ricostruzione o della seconda vita io ho scritto tanti libri molto diversi tra di loro veramente un universo di libri ci sono dei libri molto dolorosi dei libri decisamente più leggeri però se devo trovare un tratto comune è il tema della rinascita della ricostruzione di una seconda vita che è una cosa che tu hai come dire la domanda che vorrei farti è esattamente questa cioè secondo te visto che siamo sempre a Torino spiritualità e quindi c'è anche un certo approccio qui alla lettura e alle storie secondo te la letteratura ha una componente terapeutica per chi scrive o per chi legge quindi tu dicevi che un tratto in comune è la rinascita quindi chi legge i tuoi libri può in qualche modo cioè la lettura dei tuoi libri può in qualche modo contribuire alla alla rinascita no? è vero sì devo leggere i miei libri e voi avete molto meglio dopo sarete certamente meglio fai du bian io trovo un po triste mi farà bene peraltro io sia come scrittore ma anche come uomo l'ho vissuta una sorta di rinascita io sono stato molto malato all'età di 16 anni sono stato operato di cuore quindi per me c'è stata una rinascita e devo dire che la letteratura ha avuto un ruolo importantissimo mi ha proprio cambiato la vita mi ha costruito per quello che sono oggi quindi io credo profondamente e follemente nella forza della letteratura allora ci avviamo adesso mollemente tranquillamente verso la fine dell'incontro se c'è qualcuno che ha delle domande soprattutto chi ha letto chi ha soprattutto letto gli altri libri di David siete come dire invitati a farli quindi vi lascio un attimo per rifletterci intanto volevo chiedere ancora a David rispetto alla alla questione della 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 diffusione dei tuoi libri più come dire molto tradotti in tutto il mondo lui è uno degli autori francesi più tradotti nel mondo di grande successo in moltissimi paesi è vero effettivamente chiaramente come dire meno meno conosciuto in Italia rispetto a quanto dovrebbe e potrebbe essere ti sei dato una risposta su questo c'è qualcosa nel tono del racconto nello sguardo che magari si confà a un certo pubblico e meno meno un altro cosa posso rispondere a e cosa posso rispondere io penso che avete una grande errore rispondere io credo che questo è stato fatto un grande errore in Italia ma no no ma dicevo tutto con molto humor no però lo dicevo scherzando naturalmente non non immaginate la chance che posso avere di vivere la letteratura di essere traduita in molti paesi la chance incredibile non voglio più di successo la chance incredibile di essere a Turin in questa bella sala e di avere già molto di mondo è meraviglioso penso che mi suffi perfettamente scherzavo ovviamente nel dire che l'Italia ha fatto un grande errore e io mi ritengo già enormemente fortunato a poter vivere di letteratura a poter essere venuto qui a Torino in questa bella sala con così tante persone quindi è più che sufficiente non so darmi troppe risposte sul perché e quindi non c'è problema diciamo che lo smacco italiano ci convivo tranquillamente di Grazie a tutti